Dopo il netto rialzo con il raddoppio dei positivi nel bollettino precedente, tornano a calare i contagi da coronavirus in Toscana. Sono 12 quelli accertati nell'ultimo report regionale, che portano il totale in Toscana a 10.047 dall'inizio dell'emergenza. Il 75% dei nuovi contagi arriva dalla provincia di Firenze, che fa registrare una più 9 rispetto alla giornata di venerdì. Un solo caso positivo a Lucca, Livorno e Siena, mentre nelle altre province il bilancio resta invariato. Due dei nuovi casi positivi sono stati scoperti grazie alla campagna di test sierologici avviata dalla regione alla fine di aprile, mentre i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati più di 3.500, per un totale complessivo che ha superato quota 226.000. Continuano ad aumentare le persone guarite in Toscana più 30 rispetto alla giornata di venerdì, un aumento dello 0,4%, mentre si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto degli ospedali dedicati ai pazienti covid. Attualmente 197, 7 in meno rispetto all'ultimo bollettino, di cui 40 in terapia intensiva. Si tratta del punto più basso raggiunto dal 10 marzo scorso. In diminuzione anche l'incremento del numero di nuovi decessi, due quelli registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di due uomini con un'età media di 76 anni, uno della provincia di Firenze e l'altro della provincia di Livorno, che portano il totale complessivo dei deceduti dall'inizio dell'epidemia in Toscana, a quota 1011.